La fuga disperata dei turisti, i cecchini con le armi spianate, è il momento più drammatico di una vicenda iniziata questa mattina a Tunisi intorno a mezzogiorno e conclusasi in un bagno di sangue. Le notizie a distanza di otto ore sono ancora provvisorie. Cinque terroristi, due uomini con l'uniforme dell'esercito tunisino armati di Kalashnikov e tre in supporto logistico mischiati pare fra la folla tentano di entrare nella sede del Parlamento. L'azione dei terroristi però non riesce, respinti dai militari a guardia dell'edificio reagiscono sparando raffiche di mitra contro un pullman parcheggiato davanti al museo del Bardo che si trova attaccato al Parlamento. È la prima strage. Poi, velocemente, i terroristi si spostano all'interno del palazzo e, secondo alcune testimonianze, si liberano delle divise. All'interno del museo catturano moltissimi ostaggi. Una delle persone finite nelle mani dei terroristi scatta queste foto. Dall'interno di una delle stanze del museo decine di persone fatte sedere a terra, decine di bambini fermi contro un muro, molti anziani. Le forze speciali tunisine intervengono intorno alle due del pomeriggio e riescono ad evacuare centinaia di persone, ma al termine del blitz e il bilancio delle sparatorie, quella avvenuta all'esterno e quella all'interno del museo, è pesantissimo. 22 morti di questi 17 sono turisti e fra le vittime, informa prima una giornalista di Al Jazeera English e poi un'agenzia di stampa, ci sarebbero almeno due italiani. Una sarebbe stata identificata e sarebbe una donna di Torino. 50 i feriti, circa, ricoverati all'ospedale Charlie Cole. Fra questi ci sarebbero anche 5 italiani, di Novara e di Torino, ma non sarebbero in gravi condizioni. Fra le vittime anche Aymen Mergen, l'autista del pullman che aveva portato i turisti al museo. Dei terroristi che hanno effettuato l'attacco, due sarebbero stati uccisi, sono Jaber Kaknawi e Yassin Labidi. La maggior parte dei turisti che si trovava all'interno del museo era arrivata a Tunisi, a bordo di Donavi, la Costa Fascinosa, partita sabato scorso da Savona, e la MSC Splendid, a bordo migliaia di persone. Molti italiani, ma anche tedeschi, polacchi e spagnoli, che avevano prenotato la visita al museo. Le forze dell'ordine tunisine hanno eretto una cintura di sicurezza intorno ai luoghi dell'attacco e rimane al momento difficoltoso avere notizie confermate. Nessun gruppo jihadista ha finora rivendicato l'attacco, anche se in alcuni siti vicini all'Isis la strage è stata attribuita ai terroristi del sedicente Stato Islamico.